Nella città di Favara è notoria la carenza di parchi pubblici dove cercare, specie in estate, un po' di ombra e in qualche modo trovare sollievo dall'asfissiante caldo africano. Il piazzato Giustino, ad esempio, e due grossi alberi di eritrina, per la loro folta chioma, offrono agli anziani frequentatori un buon riparo dal sole. Da circa cinque mesi, però, l'albero più grande è stato infestato da una specie particolare di insetti, volgarmente chiamati cocciniglia, che non solo mettono a rischio la sopravvivenza della pianta, ma per le sostanze che secernono hanno indotto gli anziani a non poter più suffruire delle panchine sottostanti. Dall'albero, infatti, si stacca continualmente una sostanza di colore bianco che si deposita sulle panchine rendendole così impraticabili. In mattinata, nella centrale Piazzetta, dove tra l'altro ha sede anche il comune, abbiamo incontrato un gruppo di anziani che si dicono amareggiati, anche perché si sentono privati di quel poco di ombra di cui disponevano. Ci sono problemi che quest'albero è troppo malato e manco non ci potevano mettere manco di sotto, che ne scolava solo l'altro di un colore. Ci avvederò il cinico che va a venire a disimpezzare. E' un male che ci viene all'albero, mi capi? E ci vuole dare una bella poluzziata. Sono poluzziata, lo puono stendere tutto in terra e ne mandano a casa, che non ci potevano vedere nessuno più. Lo discorso di questo è. Secondo quanto riferitoci dagli stessi, il problema sarebbe a conoscenza del comune. Abbiamo detto alla signora, come si chiama, Canetta, a tutti i cittadini, a tutti i cittadini, a tutti lo diciamo, e noi dobbiamo fare una cosa. E che cosa vi hanno detto? Che l'hanno a reggettare, però non la reggettano mai. Quindi siete stati costretti a spostarvi? Esatto, perfettamente. Addirittura, secondo quanto appreso, la sostanza chimica da utilizzare per la relativa disinfestazione sarebbe stata acquistata dall'ente circa tre mesi fa. Per intervenire mancherebbe quindi un solo ordine di servizio da parte dell'assessore a ramo, che consentirebbe ai giardinieri di procedere con la bonifica, salvando così l'albero e restituendo l'ombra agli anziani.